Un altro furto messo a segno alla piadineria Il Chiosco, il locale situato in piazzale Cinelli di Pesaro, di proprietà del ristoratore ribelle Umberto Carriera. I ladri intorno alle 6.30 di questa mattina, dopo aver sfondato la porta del locale che dà sull'ospedale, si sono intrufolati nel magazzino della piadineria, ma non riuscendo a rubare il fondo cassa grazie alle serrande ben chiuse, se ne sono andati con alcuni fusti di birra, bibite ed altre vivande. Un danno tra vetro rotto e refurtiva fa sapere Carriera che si aggira attorno ai 200 euro. Sul posto è intervenuta la polizia. Per la piadineria Il Chiosco si tratta del quarto colpo subito in meno di due anni. Più i danni che il guadagno per loro, a meno che non avessero sete, insomma, continua questo per serverare da parte di ladruncoli nella città di Pesaro. Il mio appello all'amministrazione comunale, dice Carriera, è quello di intensificare i controlli, soprattutto in questo periodo in cui dopo le 22 con il coprifuoco nessuno di noi è in giro ed i malviventi possono farla franca più facilmente. Le forze dell'ordine, io spero, capisco che sono magari in difficoltà a livello organico, ma spero che riescano quanto prima a fare chiarezza su questi furti che si ripetono, anche perché quando era ora di intervenire, durante le mie proteste, le mie aperture serali sono intervenuti in massa con 20-30 agenti, quindi basterebbe in realtà qualche pattuglia che sorveglia la città durante il coprifuoco.